Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi in occasione della festa della mamma ho deciso di preparare insieme a voi un dolce meraviglioso, il bianco mangiare. E' un dolce di facile preparazione ma è di una meraviglia agli occhi, normalmente si usa a decorarlo con scaglie di mandorle oppure granella di nocciola insomma è frutta secca, io invece appunto per l'occasione della festa della mamma ve lo propongo in un altro modo, non vi resta che guardare il video e vi raccomando state attenti a tutti i passaggi e adesso prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche ed ora cominciamo. Iniziamo col mettere in un pentolino il latte e delle bucce di limone che metteremo all'interno del latte per aromatizzare. portiamo sul fuoco e lasciamo scaldare il latte nel frattempo mettiamo in una pentola o un tegame l'amido di mais, lo zucchero, un pizzico di cannella e un mezzo cucciaino di estratto di vaniglia iniziamo a mescolare le polveri il latte si è riscaldato e inizio a mettere un po' di latte e comincio a far sciogliere appunto le polveri quindi lo zucchero e l'amido di mais ed ora inserisco tutto il latte con tutte le bucce di limone continuiamo la cottura sul fuoco e portiamo a ebollizione dopo qualche minuto come vedete la crema comincia a prendere corpo e si sta addensando lasciamola qualche altro secondo facciamo andare in ebollizione anche la crema come vedete stanno cominciando le prime bolle continuiamo ancora per qualche secondo ed ecco qua la crema è pronta spengo la fiamma elimino le bucce di limone e verso tutto in uno stampo in silicone questo è da 22 cm è l'ora non ci resta che farlo raffreddare a temperatura ambiente dopodiché lo metteremo almeno un paio d'ore in frigorifero prima di decorarlo a più tardi il dolce si è raffreddato e quindi si è compattato adesso vado a sformarlo e poi a decorarlo non ci resta che farlo 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 amici carissimi il nostro bianco mangiare è pronto per essere gustato è un dolce veramente straordinario di una bellezza unica adatta proprio al caldore del cuore delle mamme e con questo io do un augurio speciale a tutte le mamme del mondo spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento vi aspetto alla prossima un like al video iscrivetevi al canale e se vi piace commentate e come dico sempre vi do un abbraccio un arrivederci un grazie a tutti da Zia Franca buona festa della mamma grazie a tutti